Ma qua girano un sacco di serbi, non c'è bisogno che ti sforzi, conosciamo il nome e cognome di questo signore, perciò prende il registro e ci diamo un'occhiata, dai. Da un po' di tempo che non lo vedo, ha lasciato la sua stanza giorni fa. E che abitudini aveva questo tipo? C'era qualcuno che lo veniva a trovare di frequente, aveva ospite. Ma queste sono informazioni riservate, e voi capite la privacy. La privacy? Polizia. Dai, prende il registro. La privacy. Ecco qua. Bene, tutte le abitudini del vostro uomo, tutti i movimenti, entrate, uscite e ospiti. Camila Kostovic, ti dice niente a questo momento? Cioè, mi dice che con la ragazza non ce l'ha da conto a giusto. C'è un'occhiata non ce l'ha da conto a giusto. C'è un'occhiata non ce l'ha da conto a giusto. Grazie.